Ecco 10 consigli di miglioramento personale tratti dai film di Spider-Man. Con grandi poteri, vengono grandi responsabilità, questa celebre citazione dallo zio di Peter Parker ci ricorda che avere talento e abilità conlleva la responsabilità di usarle per il bene degli altri. Sii te stesso, in Spider-Man, Homecoming, il mentore di Peter Parker, Tony Stark, gli dice di essere l'amichevole quartiere Spider-Man e di non cercare di essere qualcosa che non è. Non mollare mai, in Spider-Man, No Way Home, Peter Parker affronta una serie di avversità e ostacoli, ma non si arrende mai. Continua a lottare per ciò in cui crede, nonostante le difficoltà. Accetta le conseguenze delle tue azioni, in Spider-Man 2, Peter Parker deve affrontare le conseguenze della sua decisione di abbandonare la sua identità da supereroe. Accetta le conseguenze delle tue azioni e fai del tuo meglio per rimediare ai tuoi errori. Renditi disponibile per gli altri, in Spider-Man, Into the Spider-Verse, Miles Morales impara l'importanza di rendersi disponibile per gli altri e di aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto. Sperimenta e impara dai tuoi errori, in Spider-Man, Far From Home, Peter Parker sperimenta nuove abilità e impara dai suoi errori. Non aver paura di provare cose nuove e di commettere errori, perché è così che si impara e si cresce. Cerca di capire gli altri, in Spider-Man, Homecoming, Peter Parker cerca di capire i motivi che spingono il cattivo Vulture a compiere azioni criminali. Cerca sempre di capire gli altri e di vedere le cose dal loro punto di vista. Sii empatico, in Spider-Man, No Way Home, Peter Parker dimostra grande empatia per i suoi amici e alleati, anche quando le cose si complicano. Cerca di metterti nei panni degli altri e di comprendere i loro sentimenti. Non sottovalutare il potere delle relazioni, in Spider-Man, Far From Home, Peter Parker scopre l'importanza delle relazioni e dell'amicizia. Cerca di coltivare relazioni positive con le persone che ti circondano. Sii corazzoso, in tutti i film di Spider-Man, Peter Parker dimostra coraggio e determinazione nel combattere contro i cattivi e salvare la città. Sii corazzoso e non avere paura di affrontare le sfide che ti si presentano.